Ciao a tutti ragazzi e bentornati al corso di trading sportivo sul tennis della Trading Academy e benvenuti alle strategie avanzate. Studieremo due strategie avanzate all'interno del mondo del tennis che in realtà sono abbastanza simili. La strategia dello scalping break, faremo appunto un'introduzione al mondo delle strategie avanzate e capiremo come mai sono più avanzate rispetto a quelle intermedie o quelle di base e dopo lo scalping break andremo, oltre naturalmente agli esempi live che arriveranno, andremo a vedere una sorta di scalping break diciamo una riedizione dello scalping break, andremo a vedere una versione leggermente differente di una strategia che in realtà è sempre questa. Quindi lo scalping break, questa è una strategia molto importante molto utilizzata all'interno del mondo del tennis perché combina appunto lo scalping all'interno del mondo del tennis con naturalmente il trading all'interno appunto del break. Quindi potrei dire che combina il trading che si fa quando arriva un break, un break point, sappiamo che i mercati si muovono particolarmente in maniera intensa quando arriva un break all'interno del mondo del tennis, ma combiniamo appunto il break con lo scalping. Quindi combiniamo due modalità differenti sicuramente di fare trading, il trading live e il trading che si utilizza con lo scalping. Ma non è soltanto questo il punto ragazzi, il punto è che nelle strategie avanzate noi andremo ad avere un punto focale, andremo davvero a guardare in maniera più attenta e quasi più analitica e tecnica quasi i mercati sportivi. I mercati sportivi bisogna seguirli. Se noi conosciamo bene i mercati sportivi riusciremo anche molto bene a fare trading avanzato sul tennis. Io personalmente ragazzi ho un sacco di automazione all'interno del mondo del tennis che vi porterò naturalmente nei prossimi corsi, nei prossimi video in tutto quello di più avanzato perché naturalmente per automatizzare il tennis o il calcio olimpica bisogna conoscere bene i mercati. Ed è per questo che con le strategie avanzate faremo una introduzione al mondo del supporto e al mondo delle resistenze. È un concetto che deriva dal training finanziario per quelli che non lo sapessero. Io faccio anche training finanziario non ai livelli del training sportivo quindi non sono assolutamente un trader avanzato come per esempio sullo sport, sul calcio, sul tennis o sull'ipica ma prenderemo alcuni spunti dai termini che derivano dal training finanziario per appunto parlare di supporto e resistenze. Sono concetti estremamente importanti nel tennis perché le resistenze le zone di resistenza nel tennis possono assolutamente essere utilizzate a nostro vantaggio e lo scopriremo all'interno di questa lezione. Benvenuto alle strategie avanzate. Come vi dicevo le strategie avanzate sono strategie che non sono particolarmente complesse. Questo l'abbiamo già visto un concetto che abbiamo già visto. Le strategie avanzate non sono strategie difficili da utilizzare all'interno dei mercati con calcoli pazzeschi. Sono difficili perché combinano o più strategie messe insieme oppure diciamo che la difficoltà è nella analisi, nella ricerca degli eventi migliori o nell'analisi in play. In questo particolare caso diciamo il fatto che la strategia la chiamiamo avanzata deriva appunto dal fatto che combiniamo due modalità di trading differenti. Lo scalping e appunto il live trading ma soprattutto dovremo andare a guardare e analizzare i mercati di tennis perché i mercati di tennis sono una tipologia ben precisa di mercato. Adesso io ho sempre detto che il mercato di tennis è una fusione tra il mercato di calcio e il mercato di ipica perché? Perché abbina la volatilità del mercato dell'ipica con la struttura di quello del calcio. Cosa vuol dire la struttura di quello del calcio? Noi sappiamo che i mercati si muovono in maniera molto importante quando arriva un gol. No, quando arriva un gol, quando arriva un'espulsione e andiamo a gradi nel senso quando arriva il gol i mercati hanno diciamo sono si muovono in maniera molto importante quando arriva un cartellino rosso si muovono magari in maniera un po' sicuramente meno importante ma sempre abbastanza in maniera convinta e poi da lì tutto quello che va da lì a lì tipo per esempio un calcio di rigore sbagliato oppure una punizione del limite tutte queste cose muovono i mercati un calcio d'angolo volendo anche muove il mercato però quello che sto dicendo è che nel tennis funziona esattamente così i mercati ruotano intorno ai breakpoint ruotano intorno ai punti di pressione e ne parleremo all'interno della prossima lezione dopo le strategie avanzate vi parlerò dei punti di pressione ossia quando i tennisti hanno una particolare pressione più alta rispetto al resto della partita e in quei particolari punti di pressione i mercati si muovono però diciamo che naturalmente i mercati ruotano intorno ai breakpoint ruotano intorno naturalmente a tutto quello che ne consegue quindi naturalmente al set point se abbiamo per esempio un break che può portare un set ovviamente i mercati si muovono ancora in maniera più importante però detto questo io quando parlo di mercati che combinano diciamo il mercato sportivo di calcio con quello dell'Ippica intendo proprio questo la volatilità dei mercati dell'Ippica che si possono assolutamente paragonare a quelli del tennis ma assolutamente che ruotano intorno ad alcuni key points nell'Ippica in realtà non ci sono tanti key points molto spesso i mercati sono volatili per via delle manipolazioni di mercato nel tennis invece no c'è tanta volatilità ma questa volatilità ruota intorno a punti ben determinati più nel dettaglio benvenuto alle strategie avanzate dobbiamo conoscere bene come funziona il supporto e la resistenza all'interno del betting exchange io tengo un corso di analisi dei mercati sportivi e questo ormai lo sapete tutti ma tengo anche un masterclass sull'analisi tecnica dei mercati dove appunto spiego come noi possiamo prendere spunto da alcune funzionalità del trading finanziario come per esempio il supporto e la resistenza di volumi e delle resistenze all'interno di un mercato finanziario e prendere questi spunti e portarli all'interno del betting exchange all'interno del betting exchange il supporto e la resistenza e le zone di supporto e le zone di resistenza sono molto più semplici da trovare sono molto più semplici anche da analizzare e perché semplicemente perché all'interno del mondo finanziario noi possiamo dire che i mercati possono spostarsi infinitamente in alto infinitamente in basso e se noi mettiamo per esempio due mercati dollaro sterlina o yen sterline eccetera eccetera possiamo assolutamente aspettarci che le posizioni dei mercati possano differire quindi è molto più difficile trovare un punto di resistenza un punto di supporto adesso vi spiego che cosa sono per quelli che naturalmente non conoscono ancora questo mondo non preoccupatevi adesso ci arrivo quello che sto cercando di dirvi è che noi nel trading sportivo ereditiamo tante cose dal trading finanziario ma utilizziamo un decimo se non un ventesimo un trentesimo della complessità che ne deriva da questi mercati quindi in realtà se abbiamo un minimo di analisi tecnica sui mercati possiamo veramente riuscire a leggerli facilmente questi mercati nel mondo del tennis in realtà è molto più semplice di quello che possa sembrare perché i mercati di tennis sembrano muoversi in maniera quasi incongrua no potrei dire in realtà no c'è un motivo per il quale si muovono in questa maniera detto questo andando a studiarci un po meglio come funzionano i mercati sportivi in questo specifico esempio nel tennis questo ci permetterà di utilizzare strategie più avanzate che sfruttano i mercati in maniera più tecnica cosa vuol dire vuol dire essenzialmente entrare esattamente quando è meglio quando è più profittevole entrare perché appunto avremo dalla nostra parte le zone di resistenza che impediranno ai mercati di salire ulteriormente ma se non soltanto la possibilità di scendere quindi noi vogliamo metterci esattamente in queste situazioni detto questo so che molti di voi saranno confusi e diranno ma che cosa sta dicendo allora in analisi tecnica si utilizzano il supporto e la resistenza per indicare la probabilità di un'inversione di trend in un mercato allora nel trading finanziario il supporto e la resistenza sono indicatori che noi utilizziamo sono dei punti che cerchiamo di trovare all'interno dei grafici dei mercati finanziari per intercettare un'inversione di trend non per forza un intercettare un'inversione di trend ma per selezionare quei punti dove i mercati non si spostano ulteriormente il supporto si verifica quando un trend ribassista si assesta o si inverte ossia i punti di supporto sono quei punti bassi in un mercato dove un trend ribassista si arresta oppure sale quindi la zona di supporto all'interno di questo particolare mercato di Fiona Ferro una partita che si è svolta oggi del Roland Garros sono tutte quelle zone dove appunto i volumi e soprattutto le quote non vanno sotto determinati valori e questi valori sono determinati dagli algoritmi che seguono appunto le regole del tennis per esempio noi sappiamo che in teoria quando arriva un break point lo starting price non va mai oltre il doppio del prezzo iniziale qualora arrivasse uno starting appunto un break molto presto ci sono appunto delle regole che seguono i mercati di tennis non sempre queste regole sono seguite al 100% ma sappiamo e questo lo possiamo vedere appunto da questi particolari grafici che le zone di resistenza sono quelle zone dove appunto un trend rialzista si arresta o si inverte in questo particolare caso noi abbiamo visto che Fiona Ferro non è mai salita oltre 1.6 e vedete che intorno a quell'1.6 la quota è rimasta stabile statica adesso io non posso zoomare all'interno di questo grafico ma quello che sto cercando di spiegarvi è che se vedete la quota di 1.6 e precedentemente la quota di 1.57 56 vedete quel punto lì quel primo diciamo grosso valore quella prima impennata di prezzo che si è fermata lì vedete che appunto c'è una linea abbastanza statica leggermente statica quella è una zona di resistenza del mercato vuol dire appunto che quel prezzo particolare non sale oltre l'1.6 e vuol dire che quando per esempio un tennista o una tennista viene breccato noi sappiamo che si creano delle resistenze si creano delle resistenze vuol dire che oltre quel prezzo in realtà il mercato non si sposta o tendenzialmente non si sposta perché quelli che fanno trading finanziario sanno perfettamente che sono soltanto delle figure diciamo i punti di resistenza e di supporto molto spesso può benissimo capitare che un punto di resistenza viene intercettato viene superato e quindi in realtà il mercato poi si sposta e cambia l'outlook però nel tennis è molto più facile quasi trovare la zona di resistenza e capire che oltre quel prezzo il mercato non si può spostare e questo prezzo nel tennis coincide con il break point che cosa vuol dire in termini semplici significa che nel training sportivo un prezzo non può andare infinitamente in su e in giù questo l'ho già spiegato per questo è molto più semplice riconoscere una zona di resistenza o supporto nel betting exchange ma in soldoni molti di voi vorranno cosa vuol dire questo per me vuol dire che se noi entriamo nel momento in cui c'è un break point su un tennista particolarmente favorito possiamo assolutamente aspettarci una probabilità molto maggiore di un'inversione di trend piuttosto che una continuazione del trend allora quello che sto cercando di spiegarvi ragazzi se noi entriamo all'interno di un mercato di un tennista che è appena stato breccato è molto più semplice per la natura dei mercati sportivi essere nella zona dove il prezzo poi crolla e ce l'abbiamo per diversi motivi innanzitutto per la natura dei mercati dall'altra parte perché stiamo entrando puntando tennisti favoriti che devono recuperare un break point vuol dire questo ragazzi che quando appunto il mercato cambia idea lo cambia in maniera radicale perché appunto le zone di resistenza sono delle zone dove appunto il trend rialzista si arresta o si inverte scusatemi e ci sono diverse zone di resistenza all'interno del mondo del tennis e lo potete vedere in qualsiasi partita dove in realtà l'incontro è abbastanza alla pari lo vedete e l'avrete visto molte volte che l'idea del mercato è quella subito di cambiare idea in maniera quasi frenetica e soprattutto questo succede in determinati punti questi determinati punti ragazzi sono le zone di resistenza di un mercato lo analizzerò all'interno del corso di analisi dei mercati sportivi lo analizzerò all'interno del corso di analisi tecnica dei mercati dove utilizzeremo determinati grafici avanzati per riconoscere i punti di supporto e di resistenza di un mercato ma detto questo che cosa ce ne viene a noi che vogliamo fare trading sul tennis ce ne viene ragazzi perché le zone di resistenza sono create intorno ai break points nel tennis le resistenze si creano intorno ai break points e alle palle break naturalmente nel tennis sappiamo benissimo che i mercati diciamo che si preparano prima al break point se dovessimo essere in una situazione di love 30 oppure love 40 quindi 0.40 0.30 o 15.40 per esempio i mercati già si predispongono per aspettarsi il break quindi vedrete naturalmente i mercati andare su non è che vanno su di colpo ma detto questo ci sono dei punti in cui il mercato non si sposta oltre o almeno è molto più semplice che abbia un'inversione di trend so che sembra molto complicato all'interno naturalmente dell'illipica quelli che fanno trading sull'illipica queste sono cose molto più importanti perché nel trading pre-match sull'illipica è fondamentale riconoscere un punto di resistenza perché stiamo parlando di pre-match qua stiamo parlando di in play stiamo parlando di live trading e di live match quindi stiamo parlando di tennisti che devono recuperare un break ma il mercato è tendenzialmente molto più predisposto a pensare che il tenista favorito torni in partita e quindi subito a cambiare idea piuttosto che a continuare il trend questo per la natura dei mercati sportivi è per questo ragazzi che stiamo parlando di strategie avanzate perché bisogna conoscere come funzionano i mercati sportivi ma una volta che conosciamo che questo meccanismo questa è la natura dei mercati sportivi davvero ci sono tantissime strategie che noi possiamo utilizzare all'interno del trading sportivo non per forza sul tennis ma anche in tanti altri mercati questo significa che difficilmente un prezzo andrà più in alto rispetto al prezzo offerto dopo un break questo perché i mercati naturalmente si aspettano che il tenista favorito adesso poi andremo a parlare di quali tenisti favoriti vogliamo trovare si aspettano appunto il tenista favorito a ritornare in partita e dall'altra parte la natura del mercato come vi dicevo si aspetta un'inversione di trend proprio perché si creano queste zone di resistenza che derivano appunto dal trading finanziario questo ci consente di trarre vantaggio dal meccanismo dei mercati sapendo che il prezzo non può che scendere ovviamente può salire perché il tenista appunto il favorito che va al servizio può benissimo essere breccato nuovamente quindi il prezzo può continuare a salire questo non sto dicendo che adesso al 100% assolutamente c'è la certezza che il prezzo scende nuovamente ma nel tennis ciclicamente è dimostrato che in realtà il prezzo va in bounce o comunque magari non in bounce ossia non continuamente va su o giù ma è molto più predisposto a scendere violentemente che a continuare il trend e questo noi lo sfrutteremo a nostro vantaggio in analisi tecnica infatti si cercano quei putters che indicano un arresto della salita del prezzo per entrare al mercato al momento migliore per esempio un grafico di questo tipo all'interno di una corsa pre-race sull'Ipica è fantastico perché noi sappiamo che si creano delle zone di resistenza sappiamo quando entrare per anticipare il grosso steam che spesso c'è all'interno del mondo dell'Ipica prima di una corsa e sfruttiamo appunto questo a nostro vantaggio nel tennis ovviamente lo sfruttiamo in una maniera leggermente differente lo utilizziamo utilizzando questa strategia lo scalping break in questa strategia noi punteremo un tenista favorito che ha subito un break all'interno del primo set molto meglio se arriva all'inizio quasi anche del primo set quindi nelle primissime battute, nei primissimi servizi, nei primissimi giochi in realtà al momento del servizio dell'underdog quindi una volta che appunto noi siamo entrati a favore del nostro favorito in situazioni favorevoli come un 0-30 o un 15-40 o qualsiasi potenziale palla break toglieremo 25% di stake dal mercato abbassando il rischio del trade significa che noi entriamo a favore del favorito una volta che viene breccato poi naturalmente al servizio del non favorito o non favorita ragazzi è qua ovviamente io intendo qualsiasi partita di qualsiasi giocatore o giocatrice invece al momento appunto del servizio del non favorito dovessero esserci delle situazioni di 0-30, 15-40 noi toglieremo 25% di stake dal mercato abbassando il rischio del trade qualora o quando il favorito brecca o breccasse l'avversario break back come si dice in inglese toglieremo il restante 75% di rischio dal trade avendo dunque una free bet sul tenista favorito quindi essenzialmente quello che stiamo facendo stiamo puntando un tenista favorito che è sotto di un break all'interno del primo set nei primissimi giochi è molto meglio aspettarci il break all'inizio perché c'è più tempo per il favorito di tornare appunto in partita nel caso in cui il tenista non favorito convertisse il suo break quindi hold of service utilizzeremo una strategia di scalping sul favorito per rosicchiare alcune tics a mercato in corso cosa significa? significa che il nostro non favorito o non favorita appena breccato l'avversario al momento appunto del servizio del favorito o della non favorita noi entreremo in scalping sul mercato del favorito o non favorita ossia ci stiamo aspettando che il favorito non venga breccato nuovamente subito e questo molto spesso non accade voglio dire è molto raro vedere un tenista molto favorito venire breccato due volte di fila specialmente se quella è la sua superficie adesso andremo a vedere come cercheremo diciamo i tenisti migliori quelli più in forma ma detto questo è molto molto raro ed è per questo che noi cerchiamo di rosicchiare alcune tics a mercato in corso per diminuire le nostre loss dove se vincere poi il primo set il tenista non favorito oppure massimizzare le nostre win perché se poi al servizio successivo il nostro favorito brecca l'avversario non solo abbiamo la win del mercato che torna completamente a nostro favore ma abbiamo anche queste rosicchiature possiamo dire del mercato in corso abbiamo fatto anche scalping sul favorito e questo ci aggiunge del profitto sul mercato questa è la strategia ragazzi poi arriveranno tanti esempi live tra poco finisco con le strategie di tennis parlerò dei punti di pressione quindi parlerò di altre cose all'interno del mondo del trading sul tennis ma le strategie stanno per finire quindi avrò molto più tempo anche per portare esempi live adesso che finalmente sono tornati gli eventi maggiori stiamo parlando del major di Francia Grand Slam di Francia Roland Garros appena finito lo US Open quindi comunque tanti tanti eventi e tanta possibilità anche di fare esempi live come funziona lo scalping break? allora punta favorito break primo set qualora appunto un favorito dovesse essere breccato all'interno del primo set punteremo il tenista favorito starting price consigliato ragazzi di 1.4 o inferiore vogliamo veramente dei tenisti favoriti non vogliamo dei tenisti a quote di 1.7 perché 1.7 il mercato è abbastanza indeciso è leggermente tendenzialmente a favore di questo tenista o di questa tenista però un break cambierebbe notevolmente le cose invece un tenista anche quotato a 1.2 ragazzi 1.3 va benissimo perché noi ci aspettiamo appunto che torni in partita i mercati non aspettano altro proprio perché abbiamo anche le zone di resistenza del mercato che tendono a spingere in giù e invertire il trend di questo mercato nel momento in cui viene breccato all'interno del primo set nei primi giochi è meglio diciamo nelle primissime diciamo parti della partita perché appunto vogliamo avere del tempo per aspettarci il break di ritorno del favorito quindi cerchiamo quelle partite dove un favorito non inizia diciamo in maniera troppo perfetta ecco toglieremo il 25% di rischio ad ogni situazione di potenziale vantaggio per esempio love 30 0.30 15.40 possibile palle break tutte queste situazioni noi togliamo il 25% di quello che abbiamo inserito al mercato per togliere 25% di rischio toglieremo il restante 75% di rischio quando arriva il break di ritorno creando una free bet sul tennista favorito quindi noi bancheremo ragazzi il 25% inizialmente e poi il 75% rimanente quando appunto arriva il break point dove poi la quota del favorito torna a essere molto corta e quindi naturalmente noi riusciamo a uscire per un profitto ma qualora qualora ragazzi il tennista non favorito dovesse appunto tenere il servizio convertire il suo break point e fare hold of service cosa facciamo? iniziamo una procedura di scalping sul favorito ossia nel caso in cui il tennista favorito dovesse vincere il proprio servizio dopo il break quindi hold of service entriamo con un'altra stake sul favorito quando va al servizio quindi entriamo con una seconda stake uguale a quella di entrata a favore appunto del favorito e poi toglieremo il 50% di rischio ad ogni situazione di vantaggio 30-0 40-15 oppure palla break tendenzialmente nel tennis ragazzi un tennista che è appena stato breccato se l'underdog dovesse appunto riuscire a fare hold of service la pressione inizia ad essere sul tennista non favorito significa che il tennista favorito al servizio successivo spesso molto spesso serve molto bene quando serve molto bene il tennista favorito noi riusciamo a rosicchiare alcune tics dal mercato spesso anche abbastanza tante tics perché dipende molto da quanta diciamo con quanta enfasi riesce a vincere il proprio servizio ma questo ci permette appunto di sommare diciamo sommare tics su tics su tics e quindi profitto su profitto che poi portiamo avanti all'interno del trade successivo perché poi faremo appunto la stessa cosa all'interno del servizio successivo in caso di secondo break però da parte del non favorito noi non usciamo subito con un cash out usciremo alla fine del primo set quindi non andremo immediatamente in cash out daremo fiducia a questo tennista o questa tennista favorita proprio perché sono tennisti favoriti quindi magari riescono a ritornare in partita e non faremo però un'altra volta uno scalping quindi questo dipende ragazzi per questo che sono strategie avanzate lo scalping io personalmente lo farei soltanto quando il favorito è sotto di un set e sta appunto rincorrendo potrei dire quindi queste sono le situazioni in cui io farei scalping ma appunto in caso di secondo break di doppio break che è raro ragazzi se scegliamo i tennisti favoriti forti su quelle superfici un doppio break all'interno del primo set deve essere assolutamente molto raro in ogni caso noi usciamo alla fine del set quando qualora il tennista non favorito dovesse vincere il primo set proprio perché continuiamo a dare fiducia al tennista favorito e poi scusatemi quando qualora ritorno un attimo indietro qualora il tennista favorito scusatemi qualora il tennista favorito dovesse riuscire a fare appunto un break back al non favorito quindi un doppio break per esempio un doppio break e il tennista favorito dovesse riuscire a recuperare un break quello che possiamo fare è di nuovo uno scalping quindi noi possiamo per esempio di nuovo fare uno scalping quindi break all'avversario dopo essere andato in doppio break questo soprattutto nel tennis femminile ragazzi non tanto in quello maschile non succederà quasi mai nel tennis maschile se scegliamo i tennisti veramente forti e favoriti nel tennis femminile invece potrebbe succedere molto più spesso e quindi in caso di un break di ritorno uno su due nel senso due break per il non favorito e uno per il favorito possiamo ricominciare la strategia di scalping ma io non farei un altro scalp sul tennista che è sotto di due di due di due break nel senso che è stato breccato due volte perché molto spesso è un tennista che dice ok ho perso il primo set inizierò poi a giocare nel secondo quindi fate attenzione diciamo se volete appunto fare scalping sul favorito sotto di due break perché molto spesso è un tennista che poi torna in forza all'interno del secondo set ok quando evitare lo scalping vi ho appena detto appunto alcune cose però è consigliabile evitare lo scalping sul favorito se siamo ancora all'inizio dell'incontro il favorito non ha ancora vinto nemmeno un servizio quindi dovesse venire breccato subito è consigliabile guardare come va il servizio come riesce a giocare a questi servizi scalping noi sappiamo che è un tennista favorito però magari all'inizio non riesce a giocare così bene quindi in ogni caso cercate di vedere come va il servizio il favorito perché qualora dovesse venire breccato deve comunque recuperare quindi abbiamo bisogno di un servizio molto buono qualora volessimo anche fare scalping è anche consigliabile che il tennista favorito sia forte al servizio quindi tendenzialmente un tennista forte al servizio che comunque stia servendo bene per esempio uno sverev è molto forte al servizio sverev quindi dovesse essere breccato è un perfetto esempio per venire appunto per utilizzare appunto questa particolare strategia mi viene anche in mente per esempio Nadal Nadal è un ottimo molto forte al servizio soprattutto su alcune superfici come la terra rossa quindi ci sono alcune superfici dove quando appunto al servizio va Nadal anche se il servizio non dovesse essere perfetto perché sappiamo appunto la rapidità della superficie eccetera eccetera sappiamo che comunque sono tennisti molto forti in fase di servizio quindi per esempio questi tennisti qua sverev oppure un famoso Federer sull'erba il servizio di Federer sull'erba imprendibile o che comunque stia servendo bene ossia che vinca sui servizi rapidamente insomma dobbiamo guardare le partite per essere sicuri che al servizio il nostro tennista favorito sotto di un break continui a giocare bene consigliabile andare a selezionare tennisti favoriti che abbiano un netto vantaggio di forma sulla superficie rispetto al tennista sfavorito non so se vi ricordate ragazzi quando vi facevo vedere come faccio le ricerche su Flash Score andrò a farvelo vedere quando guarderemo gli esempi live che arriveranno probabilmente domani ragazzi domani o nei prossimi giorni non arriveranno tra una settimana arriveranno molto prima gli esempi live di questa strategia perché adesso c'è tanto tempo per fare trading sul tennis quindi vi farò vedere esattamente come faccio le ricerche per andare a cercare i tennisti più favoriti che sono spesso quelli che hanno un edge di vantaggio sulla superficie rispetto agli avversari ricordatevi che l'underdog ha una mentalità da underdog questo lo spieghiamo lo spiegherò molto bene nei punti di pressione nel tennis l'underdog sa che è sfavorito dovesse essere in vantaggio su un tennista molto più forte di lui subisce questa pressione ragazzi soprattutto in alcuni punti soprattutto quando deve battere per esempio per vincere il set e uno sembra è incredibile la pressione deve essere tutta sull'altro no io sto servendo per vincere il mio set vi posso assicurare che non è così nel tennis nel tennis la pressione quando io sto per servire per vincere un set di una partita di tennis la pressione è tutta su di me quindi vi posso assicurare e poi ne parleremo ne parleremo a lungo di queste cose qua spesso sarà sotto pressione quando si porta in vantaggio contro un tennista più forte in generale quindi tenere sotto considerazione questo fattore qua e poi all'interno delle prossime lezioni quando vi parlerò di pressione del mondo delle pressioni psicologiche nel tennis vi darò alcuni spunti operativi molto interessanti in più le zone di resistenza impediranno al prezzo di salire ulteriormente creando l'effetto contrario di trend che ci permetterà di recuperare parte del trade in scalping o massimizzare in caso di breakback quindi noi abbiamo queste zone di resistenza ragazzi che spingono in basso il prezzo e anche soltanto alcuni singoli punti all'interno del servizio del favorito ci permetteranno di rosicchiare del profitto che sommato poi a un possibile breakback ci porteranno in profitto detto questo ragazzi questa era la strategia del break scalping dello scalping break una strategia appunto che combina lo scalping al break e tra pochi giorni ragazzi vi porterò alcuni esempi ma poi io voglio riempire questo corso di tennis come il corso di calcio con tantissimi esempi operativi voglio farvi vedere esattamente come gestire un mercato come riconoscere una zona di resistenza all'interno di un mercato di tennis e appunto come operare all'interno del mondo del tennis quindi noi ci vediamo presto ragazzi con esempi operativi su questa particolare strategia e anche su tutte le altre strategie noi ci vediamo la prossima settimana in ogni caso con una nuova strategia di trading sul tennis che è appunto una strategia che rivisita un po' quello che abbiamo visto adesso ma con diciamo altri spunti operativi e appunto poi nei prossimi giorni con esempi live su questa particolare strategia ciao a tutti ragazzi noi ci vediamo presto con tanti nuovi contenuti del corso di trading sportivo sul tennis ciao a tutti ciao a tutti